ciao a te e bentornato su final fantasy 7 e red bird abbiamo visto il passato di tutti il passato di barrett che ha perso la moglie mirna e la città corel re 13 che ha perso la rito rete nanaki che ha perso la libertà e oso tramutato in re 13 yufi che ha perso sonon nell'inter mission fa una fatica inter mission tifa la perdita della città stessa dove è nato anche cloud è il padre e iris è la perdita di sua madre tutti abbiamo perso qualcosa e cloud invece fa lo stronzo per non ammettere niente ed è stato l'unico a non essere chiamato dagli antichi per per affrontare la sulle sue perdite tutti si tranne cloud il corridoio degli effigi ok molto carina come come corridoio veramente carinissimo giuro che ne vorrei uno così a casa che è successo la piuma cloud ok 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 Dicami, però... era valutato? Quanto pare neanche Cloud si è salvato. Per qualche ragione oscura Gli antichi se lo sono tenuti per ultimo Ma non è stata la bomba È stata la Shinra Mi sento Barret in questo momento Pigs? I Numen? Ma perché? Tutti i cittadini del settore Saeth La Shinra Jessie Jessie La Shinra La Shinra La Shinra Che Il Di Mio piccolo burattino senza anima. Non dirmalo. Non dirmalo. Non dirmalo. Non dirmalo. Non dirmalo. Non sono come lui. Non d'accordo. Non d'accordo. Non d'accordo. Certo. Cloud, Cloud. Perché? Cosa vuoi dire, Sephiroth? Cosa? 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 Ho paura. Verso la materia nera. È in basso. Andiamo, ragazzi. Piano, però. Perché Cloud è un pochino scemo per ora. Cioè, non che non lo sia mai stato. Però ora di più. E io ho paura a manovrarlo. Se pareva. Eh, se pare. Mi viene. Sì, devo. Che, come. Che. 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 Oh merda Oh merda Sì, è stato estremato! non ho capito il motivo di questo nostro va bene lo stesso continuiamo a scendere a quanto pare non erano gli spiriti che non erano gli antichi ma era sepilot un'arma shuriken di fuma per yuffie interessante che attacchi base più 5 potenza magica più 20 bonus carica tb vai ok credo che sia meglio andare di qua ti pareva attacchi 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 quittà rattacchi baga ok ormai ero bellissima no merda abilità bugno direi bugno ok tiragli un'altra aero ho dovuto tiragli unignist su su cremato pallonata scala cosa ok quindi tutte le storie una tutela dei cetra abbiamo già provata sta tutela non è che mi dice è in un momento solta tutela dei cetra per cloud è bellissima dunque ha preservato lo spirito dei cetra ok questa è la defense io ti metto questo cloud per iris difesa fisica e magica per un per un per un piccolissimo costo si dai ma anche mai ma anche mai ma anche mai iris non mi dire che adesso devo andarti a ripare tutto ti prego perché perché non vado a guardare cos'è che fa ma che sono scena che sono scena aerea meteorica l'estensiva ovviamente adesso le vado meglio a mettere bene e l'elevatrice quindi una per due estensiva sulla meteora e l'elevatrice sulla rianimate ok bene di qua andiamo ad acchiappare sta maledettissima materia nera e no maledizione basta basta mostri e mostri cazzi Sì 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 Ah Ah vero c'era anche l'analitica Finira Oh Vi prego tifa portalo allo estremo Unità sinergica Finale unito Sì 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 Mi prego una tonnette addosso Oh merda Ma quanto sei resistente Tu stronzo Mi chiamo qui Cuiata Mi chiamo 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 Sì, vabbè, con lei è andato Ah no, non sei tu, guardi un secchiata Magia, poi una cometa Au, au Au Oggetti immediatamente Ok Giga pozzene su Iris Ok Grazie Ok Ok Quindi è questo che è dov'è? Ah 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 Eh Ah 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 Grazie per questo Oh merda è ancora vivo E chi sei da Sono qui Ok, vabbiamo Ho capito Buona luck Grazie Siamo 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 Merda Merda Oh merda E quanto sei forte tu Oggetti Fai una cosa di cose Di fenice E' tremato Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo No dov'è Dove sei tu? Oh Dovrebbe essere qua Sì Sì Sempre più in basso Ok Ma Finalmente Ed eccolo qua Gramps Sì 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 ma che cosa gli uomini contro il setra gli uomini che ridevano gli uomini gli uomini gli uomini gli uomini gli uomini e i Questo pianeta, altri che venivano a tutti i nostri spettatori. Dov'è sto andando? Che cosa mi sto andando a cacciare? Sono i geroglifici Per i figli dell'uomo Per volere dal flagello Nessuno può dire Non siamo qui per i scelti del destino Per farciare l'avventura del nostro finito Guarda! Oh, Marga. It's on you. I'll take care of them. This one's for you. All set. You can't! We're all of them! We're all of them! We're all of them! Stremato! I'm in there! You're a good guy! I'm in there! I'll take care of this! I'm in there! I'll take care of this! I'm in there! You're tired! You're a little bit! Come on! Come on! Come on! That's a 49! You're off! Let's go! In party. I'll show you what I can do! Cut! I'm not there! Ero Vulgar Vulgar Krio Krio Un'altra scelta! Basta combattimenti e basta anche dungeon! Basta! Ho capito! Andiamo direttamente al dunque! Conobbe il flagello! Genova! 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 Lei del palacio Genova... E' utilizzata la parolavari Genova! A avete detto Genova! Ma Ställò Avevano anche il cappone Un'ora سيارة Che l'antica Quando gli comedici Dese Un'ora Chia erano Di andare perché Genova non era un antico Genova è la calamità che accadde dal cielo Genova distrusse i cetra e l'umanità compì il miserabile errore di crederlo un antico usò il suo sangue, il sangue di Genova riprodotto in laboratorio e creò un bambino, Setyros quando tutti credevano, persino Setyros di essere un antico alla fine antico non lo era oh merda oh merda no, assuto di essere il primo Ok, tensionissima Tremato Sallonata E baffanculo Grande Iris Eh ciccia, basta però Ho capito Oh porca merda Oh porca merda Quanto mi stai sul cazzo Oh porca merda 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 per fuori combattimento se pareva a riserva i o è finalmente madonna e quanto ci sta a caricarla sta cosa è una cosa di finito a rischio eris è morta di nuovo e paziente che devo fare io che devo fare e baffanculo certo non posso neanche ma neanche utilizzare la mia massa finale abilità limite salto mortale vai cloud almeno fai qualcosa si pare che è finita qua ma neanche è morto è di nuovo e riparte è 600 trattunti vita morti ok abilità sinergica flipper la mia massa la mia è morta E' un po' buoni da ora E' un po' buoni da ora no ma non vuoi proprio morire tu eh ma assolutamente mi chiama oh e quanti punti mi fai ma che problemi hai tu perdonatemi però però perdonatemi ma sto facendo 5-6 video qua dentro ma seriamente ma siamo seri ok abilità delle armi un periodo esuberanza aerea esuberanza ok carica sacra abilità delle armi che sverrano ripetuti attacchi magici non elementari questa la carica effetto di variotico come l'aumento della potenza magica ok red tifa tifa invece c'è pugno meteorico tifa poi me lo devi mostrare incredibilmente sto pugno meteorico più si pulmina ita ok red niente per me sicurità ecco ancora barrette si raggi sapelli tali io ho preso tutto barretti ok proviamo ad andare avanti nel disperato tentativo potete levarvi scusate ho visto una cosa là in fondo che devo vederla assolutamente a tutti i costi non è giusto da un altro mondo di chi la materia funesta che deve rimanere lontana dalla bramusia futuro guardate 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 in alto a sinistra lei dove fare la foto scusate leviamo i personaggi per scattare fornici per favore la black materia la black materia shall summon the destroyer of worlds si the meteor shall fall sundering the skies and shattering the earth all life shall perish yet i shall remain i 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